Continuo la rassegna dello stile Borneo-Kitsch e vi mostro un po' di arredo intarsiato nel legno, molto particolare. Qui abbiamo una poltroncina di legno con la tartarughina, lì abbiamo il famosissimo Cancro, Cancro che si trova nelle spiagge, intarsi con dei bellissimi pesci e il negozio, adesso sono dall'esterno, è molto particolare. Ecco, questo è un po' il gusto, su questo fattore qui hanno gli stessi gusti dei russi. Io credo che un commerciante russo venisse qua ad acquistare l'oggettistica, farebbe veramente i soldi a prate. Guardate qua che bellissimi candelabri, ecco questo è un po' il loro stile, il loro gusto, chiaramente i prezzi non sono sempre accessibili a tutti.